Pronto, signora, buongiorno, sono Luisa. Eh, mi dovete scusare, stamattina sto un poco in ritardo. Sì. No, ma voi non vi preoccupate, voi mi lasciate la chiave dal portiere, come avete fatto l'altro giorno. Sì, ci vediamo più tardi, signora. Non vi preoccupate. Sì, a più tardi. Apriamo il telegiornale con gli aggiornamenti sull'attentato di ieri sera al Tipsy Rapid di Londra, uno dei locali più frequentati dai giovani della capitale. Le vittime accertate sono 23 decine di feriti, di cui al momento 8 versano in gravi condizioni, ma il numero dei dispersi è ancora imprecisato, in quanto si sta procedendo a scavare sotto le macelle. Pronto, buongiorno. Io sto cercando mio figlio che vive a Londra, non sono riuscita a rintracciarlo. Sì, aspetta. Sì, aspetta. . A chies 4 anni, a chies 4 anni